Momenti di tensione si sono verificati a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il tutto, secondo quanto ricostruito, sarebbe accaduto per un parcheggio. In particolare, un uomo di 40 anni, per impedire che un cinquantenne posteggiasse la propria auto nei pressi della sua abitazione, lo avrebbe afferrato violentamente al braccio e minacciato di morte, impugnando un tubo di metallo con frasi come «ti ammazzo», «ti sparo in fronte». L'uomo di 50 anni, aggredito e minacciato, non sarebbe stata la prima volta, ha denunciato il vicino di casa alla Polizia di Stato di Canicattì per l'ipotesi di reato di violenza privata, querela che gli agenti hanno formalizzato e inoltrato alla Procura della Repubblica di Agrigento.